Salve amici dell'Ualla, e benvenuti in questo nuovo, video guida base, dedicato a Minacraft. Questa volta vi spiegherò come costruire i due box indispensabili per creare i vostri materiali e oggetti. Bene iniziamo. Per creare il vostro banco da lavoro andate nel vostro inventario premendo, e. Dopodiché inserite nelle caselle di crafting quattro blocchi di legno lavorato. Ed ecco a voi il vostro banco da lavoro che, sarà la base fondamentale per tutte le vostre creazioni nel mondo di Minacraft. Bene adesso vi mostrerò come creare una fornace, indispensabile per cuocere e raffinare i vostri materiali. Aprite con il tasto destro del mouse il banco da lavoro e posizionate nello spazio di crafting 8 cubetti di pietra grezza in questo modo. Una volta ottenuta la fornace potrete utilizzare dei combustibili, come ad esempio legno, o carbone, per cuocere cibo o raffinare le vostre materie grezze. Bene, adesso non dovrete far altro che raccogliere più materie possibili e sbizzarrirvi con i vostri due nuovi oggetti. Ci vediamo alla prossima guida.